Non c'erano dubbi circa la riconferma del presidente mauritano Mohamed Uld Abdelaziz. Avrebbe vinto con percentuali superiori all'80% in elezioni in cui molti partiti hanno invitato al boicottaggio. La novità è però che a Nuachkot, sebbene limitata, adesso esiste un'opposizione politica. Abdelaziz, generale golpista, ha impostato la sua campagna elettorale sulla lotta alla miseria. In un paese fra i più poveri al mondo, alcuni, persino nei quartieri meno sviluppati della capitale, non gli hanno creduto. Dice il nostro inviato. È stato in questi quartieri poveri che Bairam El Obaid è cresciuto. Il suo discorso politico è riuscito a convincere il 10% degli elettori, un fatto del tutto nuovo in Mauritania. Sulle elezioni pende il sospetto dei brogli. Le statistiche parlano di un tasso di partecipazione di poco superiore al 55%, ma l'opposizione parla del 15-20%. In questo scenario si comincia a profilare la stella di Bairam El Obaid, come figura anti-Abdelaziz, che spiega così l'esito del voto. Troppa gente soffre. Soffre per il razzismo, per lo schiavismo e per tutta una serie di discriminazioni insopportabili. Il 10% non è percentuale in grado di mettere in crisi Abdelaziz, ma è comunque un segnale politico, un segnale che potrebbe nascondere qualcosa di più importante, visto che in tanti non danno alcun credito al risultato che viene fuori dalle urne e alcuni lo dicono apertamente, come Mohamed Mahmoud Lamat. Abdelaziz è considerato un alleato degli occidentali nella lotta al terrorismo islamico nella regione, ma le spaventose sperequazioni nel paese potrebbero loro far cambiare qualcosa a livello politico a Noachkot.